allora oggi faremo la nostra specialità una bella calamarata con vongole e patate l'olio aglio in camicia un po di vino le nostre vongole allora una volta aperte togliete le vongole un po di vino un po di vino un po di vino un po di vino pezzemolo fresco un po di sale pezzemolo fresco come dice il nostro buon chef a cascata ecco qua e ultimate la cottura delle patate guardate qui dopo qui andremo ad aggiungere la pasta tenete d'occhio ancora serve un po di acqua aggiungete la tiepida si assorbe molto per la pasta e non si era una pasta Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.